Bene, in quest'altro problema abbiamo a che fare con il cariofilene, un idrocarburi insatro con formula C15H24, che costituisce uno dei componenti principali dell'essenza di garofano, quindi dell'odore e dell'aroma di garofano. Questa sostanza, vediamo che non ha il numero massimo di carboni, quindi non può essere satura, perché con 15 carboni per essere satura dovrebbe avere 32 idrogeni, cioè il doppio di 15 più 2, invece ne ha 24. Un'informazione che il problema ci dà, il 346 a pano 106, è che l'idrogenazione di questa sostanza, cioè l'addizione di idrogeno, ci dà un altro idrocarburo con formula C15H28, quindi passiamo da questo, praticamente da questo, passiamo a, per idrogenazione, a C15H28, che significa che sono state addizionate 4 ademi di idrogeno, ovvero sia, sono state addizionate le due molecole di idrono. Evidentemente ci sono due doppi legami, quindi la nostra prima deduzione è che ci sono due doppi legami, oppure potrebbe essere anche un triplo legame, diciamo, con complesso due legami, che possono stare tra gli stessi due carboni, quindi andare a formare un legame triplo, sul quale si possono adizionare i 4 idrogeni, oppure potremmo avere legami greco, due legami carbonio, due posizioni diverse della molecola. Ci viene dato la domanda quindi in che cosa consiste. Sapendo questa informazione, che cosa altro possiamo ricavare sulla struttura molecolare dalla idrogenazione del cariofilene? Bene, se noi abbiamo arrivato a 28 idrogeni, costifichiamo gli altri 4 idrogeni mancanti. Gli altri 4 idrogeni mancanti devono essere necessariamente dei anelli, quindi devono essere due anelli, perché ogni anello va a togliere due idrogeni alla formula della sostanza componente satura. Quindi, a questo punto abbiamo trovato tutto quello che si può trovare con i pochi indizi che ci venivano dati. Quindi, l'idrogenazione aggiunge 4 idrogeni e la formula, nonostante l'idrogenazione non è ancora diventata satura, quindi deve essere un composto con anelli. Se andiamo a vedere la struttura qua sotto, ci rendiamo conto che queste cose le abbiamo effettivamente trovate. Questa è la struttura del cariofilene, vediamo che ci sono due anelli, vediamo che ci sono anche due legami oppositi, separati, che si chiamano isolati quando non sono né coniugati né cumulati, ma sono più distanti. Uno fa parte di un anello, l'altro invece è esterno un anello. Andiamo a vedere questo anello da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anelli. Solo con un anello così grande è possibile avere un doppio legame trans. Vediamo infatti la posizione a sdraio tipica della struttura trans, che è abbastanza solito in teo di un anello, solo anelli da 8, 9 o maggio possono ospitare un doppio legame trans. Quindi i due doppi legami, i due cicli, ci danno una insaturazione complessiva di 8 carboni in meno rispetto, 8 idrogeni in meno rispetto al composto saturo. E questo è tutto.